Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. La pillola di oggi sul Giro d'Italia è una pillola di immensa delusione, perché tutto quello che è accaduto oggi è tutto quello che non mi piace nel ciclismo, uno degli sport secondo me più belli, più da ammirare, più spettacolari che ci siano, ma quando succede tutto un insieme di cose che è capitato oggi, quello che rimane alla fine della tappa è solo una grandissima amarezza e una grandissima delusione. Il rispetto per questa corsa si sta completamente perdendo, gli organizzatori ogni anno propongono un percorso molto interessante, la tappa di oggi, la tredicesima in programma, era attesissima, l'arrivo a Cramontana, in Svizzera, sconfinamento, avevamo la cima Coppile, il passaggio più alto del Giro di quest'anno sul Gran San Bernardo, già cambiato perché per problemi di neve, per problemi di sicurezza era stato tolto il passaggio dal collo e si andava semplicemente dal passo, quindi passando in mezzo al tunnel e poi dopo arrivo giù a Verbier, salita, discesa verso Sion e salita finale a Cramontanama, ieri in una votazione dei ciclisti si è deciso che i ciclisti non volevano la tappa completa, perché il tempo è brutto, perché fa freddo, hanno chiesto di attivare il protocollo di sicurezza, l'organizzazione ha deciso di accogliere la richiesta, non però quella dei corridori, ma una versione intermedia nella quale sostanzialmente è stato tolto tutto il passaggio del San Bernardo, dove stamattina pioveva, ma le temperature erano assolutamente normali, non c'era niente di particolare, ma la partenza è avvenuta direttamente da Verbier, si è partiti pronti via, salita e discesa, da una tappa di 209 km è uscita una semitappa, qualcosa di 74 km, ok, salita, discesa, piano, salita, però insomma molto deludente, peraltro rara giornata nella quale sostanzialmente sul terreno effettivo di fatto non ha piovuto, le difficoltà altimetriche in quota non ce n'erano, c'era la neve ai lati ma la pista, la strada era stata comunque pulita, massimo rispetto per i ciclisti, ci mancherebbe, io parlo da qui come chiunque commenta, nessuno di noi sulla bicicletta a soffrire, a pagare, a rischiare la propria vita, ci mancherebbe altro, però come ha detto Gianni Moscone stamattina, non ordina il dottore di fare il ciclista, se non ne voglia di correre, pigli, torni a casa e lasci la gara, per cui alla fine perché è stato fatto tutto questo, di chi è la responsabilità, non si sa ancora perché è tutto un rimpallo di decisioni dove nessuno si prende la briga di dire l'ho fatto io, l'ho chiesto io, l'ho deciso io, alla fine la gara, la gara di 74 chilometri, ha avuto un grande protagonista suicida, ovvero Thibaut Pinot, il corridore francese della Grupa Ma ha fatto una gara strepitosa, ma nell'ultima salita, partito in fuga, è passato in testa al primo coro della giornata, però nella salita di Caramontana è completamente impazzito nella gestione della fuga con i due sudamericani rimasti con lui, ovvero Jefferson Sepeda e Einer Rubio, soprattutto Sepeda che non ha, che ha il merito di aver fatto partire tutto, perché è stato lui appena partiti a scattare, quindi tutta la fuga di giornata nasce per merito di Sepeda, ma i suoi meriti finiscono lì, poi ha succhiato le ruote per tutta la salita, per tutta la fuga, e Pinot invece di salire con calma e arrivare poi a battere allo sprint i compagni di fuga, ha preferito continuare a attaccare, 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 innervosendosi, litigando più volte con Sepeda, che ha incassato tutto tranquillamente, alla fine ci ha provato anche un paio di volte ad andare, ma Tibo lo ha ripreso, però nello sprint finale il terzo incomodo, che è stato passivamente dietro per tutta la scalata, è stato semplicemente il più furbo di tutti, e nel ciclismo, così come nella vita purtroppo è un grande valore, è una cosa molto importante essere furbi, e Einer Rubio è andato a vincere la tappa, ed è giusto che una tappa così, in una giornata così brutta, con una tappetta trascinata diventata soltanto questo, è giusto che il vincitore sia un opportunista, che semplicemente ha sfruttato le occasioni che la corsa gli ha presentato. Tibo Pinot era il più forte e lo ha buttato via, dietro gli uomini di classifica, gara di attività, tutti i carichi, tutti all'attacco, niente di tutto questo, non è successo nulla, la Ineos ha controllato molto bene con un duplus a Anersman, con tutti i compagni di Geraint Thomas, che hanno controllato la scalata con grande tranquillità, il solo che ha guadagnato qualcosina è McCarty, che è partito e riuscito a recuperare qualche secondo, Caruso ci ha provato a meno di due chilometri dal traguardo, ripreso, ci ha provato Dunbar nell'ultimo chilometro, ripreso, risultato l'ennesimo 0-0. È un giro di grandissime delusioni, veramente, è un giro di grandi emozioni per le condizioni atmosferiche, le cadute, ma quando ci sono poi le tappe che contano, che servono, il sentimento che prevale sempre è la grande amarezza, la grande delusione. Una tappa brutta, sinceramente oggi non c'è niente altro da dire, mettiamola nel cassetto, domani ci sarebbe da fare il sempione per tornare in Italia, Domodossolo, e poi si scende verso Cassano, vediamo se magari riusciremo a trovare il modo di saltare anche il sempione, magari partire e facciamo un Domodossolo a Cassano veloce, però vediamo quello che capita. Ho perso ogni fiducia, francamente, in questo giro d'Italia e nelle emozioni che può dare. È un gran peccato perché il percorso era molto bello, ci sono tutte le caratteristiche e le condizioni per poter fare una bella corsa che però viene affrontata in una maniera che francamente non mi piace e che rappresenta appunto tutto il lato meno bello di uno sport che secondo me resta meraviglioso. Fatemi sapere ragazzi come vi è sembrata questa giornata, come l'avete vissuta, la decisione di tagliare il San Bernardo, la tappa nella sua strategia, cosa avreste fatto voi nel caso di foste stati Pinot con Seppelida e con Rubio perché deve essere stato difficile mentalmente resistere ad avere due compagni di fuga di questo livello per intanto alla fine la tappa alla vinta è nel Rubio. Maria Rosa rimane Thomas, un saluto, iscrivetevi al canale, ciao a tutti da Lox.